Stavo preparando questo bel fascicolo di documenti per portarli direttamente in procura, diciamo che questa vista mi ha agevolato perché sono venuti loro a prenderli. Noi molto volentieri abbiamo dato tutta la documentazione in nostro possesso perché vogliamo solo una cosa, che la verità venga finalmente a galla. Ho sempre detto e continuo a dire che per una buona parte della costa francavillese il mare è stato stupendo e balneabile per tutta la stagione, quindi non creiamo inutili allarmismi. Se ci sono stati problemi sono stati problemi localizzati, in particolare parliamo del tratto a confine con Pescara, quindi precisata questa cosa è ovvio che quel tratto è soggetto a un cattivo funzionamento del depuratore, ci sono stati dei valori anche in periodi precedenti ma soprattutto tutti sapevano che c'erano dei lavori di sistemazione da fare, noi lo abbiamo chiesto a gran voce, lo abbiamo chiesto non solo a gran voce ma con carte protocollate, quindi con email, con lettere e ora chi non si è mosso ci dovrà spiegare perché non si sono mossi per tempo, anche perché purtroppo per loro non potranno dire che non avevano i fondi visto che il bilancio ACA ha chiuso, come io sto dicendo a gran voce, da tempo, con 3 milioni di utili netti per il 2014, quindi ora ci dovranno spiegare perché non hanno utilizzato quei fondi ma li hanno portati come utili di bilancio. Lei a gran voce nei giorni scorsi aveva anche puntato l'indice contro i vertici di ACA ed ARTA? Sì, anche l'ARTA deve dare delle spiegazioni perché l'ultimo esempio è un'analisi negativa che a noi ci è stata comunicata il 3 settembre ma che era riferita al 7 o all'8 di luglio, allora se noi sindaci veniamo a conoscere questi valori dopo oltre 60 giorni da quando vengono fatte le analisi, spiegatemi a che cosa servono quelle analisi.